Buongiorno a tutti quanti, questo pomeriggio fa abbastanza caldo alle 13.11, martedì 9 a maggio 2023 ci sono 23 gradi 23 gradi, caspiterina, e non c'è anche il sole, non c'è, però fa caldo con il mente La macchina mi dice 24 e mezzo, vabbè, non chiamiamo un grande e mezzo di differenza Vi auguro una buona giornata e buon pranzo A stasera, ciao a tutti, ciao ciao, ciao ciao, baci baci